Salve tutti quanti player, io sono Stefano Paramo e cominciamo un nuovo video di Pokémon GO! Iniziale, nuovo per tutti per disposizia Android e iOS di Apple, ecco qua cominciamo, il primo gameplay di Pokémon GO, accendiamo con Google Spendiamo un po' Mi scuso per la qualità del video Si è verificato E i nostri problemi si avrebbero i propri tardi Questo è vero E non è un fake Salve ragazzi Adesso è chiudo